Buon pomeriggio a tutti cari amici, bene? La giornata continua anche con i miei video, parliamo adesso di NBA, Los Angeles Lakers vs Phoenix Suns, giocata nella mattinata italiana alle 4 e mezza, vinta da Lakers per 125 a 100, statistiche giocatore top 3, Davis pronto per i Lakers 25 a 23 punti, Bridge per i Phoenix 18 punti, per quanto riguarda la cronologia dell'ingontro, primo quarto 31 a 30, secondo 61 a 52, terzo 90 a 75, l'ultimo 125 a 100. I Lakers per quanto riguarda il gruppo Oves continuano il loro cammino pressoché perfetto 40 vinte e 12 perse, invece i Phoenix si ritrovano un po' lontani dall'ultimo posto valido per i playoff sempre ad Oves con 21 vinte e 33 perse. I Lakers giocheranno tra due giorni in casa dei Denver Nuggets che occupano rispettivamente la seconda posizione del gruppo Oves, quindi un testa a testa. Invece i Phoenix Suns giocheranno in casa sempre tra due giorni contro i Golden State Warriors, quindicesimi e ultimi nel gruppo Oves con 12 vinte e 42 perse. Quindi concludiamo, i Lakers vincono in casa contro i Phoenix Suns 125 a 100 e si apprestano a sfidare Denver tra due giorni in trasferta. Ciao! Ciao! Ciao!